buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv iniziamo insieme la settimana del ferragosto non dimenticate di leggere i giornali anche se siete in vacanza perché poi tenersi informati è sempre interessante e sempre piacevole per vedere come vanno le cose perché poi quando si ritorna a casa occorre fare i conti con la realtà e stamattina iniziamo di nuovo la rassegna stampa a partire dall'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi ebbene un santo importante san massimiliano maria colbe l'eroico frate francescano che nel campo di concentramento di auschwitz offrì la propria vita per salvare quella di un padre di famiglia condannato a morire di fame come rappresaglia per la fuga di un detenuto offerse la propria vita tutto quello che aveva in cambio di un'altra vita che lui riteneva più importante questo è san massimiliano maria colbe ed ora passiamo alle previsioni del tempo per vedere come va il tempo in questa settimana sarà comunque una settimana assolata e vediamo le previsioni tempo stabile e ben soleggiato su tutta la regione marche temperature massime entro 32 e 33 gradi la grafica dice che la minima e 19 la massima 28 ma probabilmente salirà ancora di più i venti sono a regime di brezza termica spireranno sulle coste da est nord est mentre nell'interno con una tensione più debole da nord est e il mare è poco mosso quindi si può tranquillamente gettarsi tra le onde sempre usare molta molta prudenza perché il periodo di ferragosto è un periodo abbastanza critico quindi non bisogna perdere l'attenzione ebbene ci ho detto passiamo alla nostra rassegna stampa a partire oggi dal corriere adriatico lo vediamo qua sulla prima pagina ovviamente si parla di turismo perché è un po il settore il tema imperante in questi giorni e vediamo hotel pieni ma con le promozioni ebbene gli albergatori cercano di invogliare i clienti abbassando un po i prezzi offrendo maggiori servizi per incrementare le presenze perché eccezionalmente quest'anno sembra che non ci sia un tutto esaurito più strutture offrono alle tanti pacchetti tutto compreso per l'intero mese per agosto compreso gli albergatori che lavorano poi a pesaro per il roff che costituisce un grande motivo di attrezione possono sempre contare sui clienti fedelissimi già arrivati il roff è iniziato ha subito preso la prima pagina perché è un evento culturale a livello internazionale molto importante e sono aumentate anche le presenze turistiche ma la notizia del giorno quella che viene promossa con più ampio risalto dai giornali è quella delle dimissioni del ct della nazionale mancini mancini resta il nostro testimonial lo ha detto il presidente della regione marche acquaroli nonostante che mancini abbia rinunciato al suo prestigioso incarico vedremo poi come il giornale sviluppa questa notizia all'interno tre notizie a centro pagina a pesaro si riceveranno anche alloggi nel complesso di palazzo americi vedremo come tre grandi progetti sono in avvio nel centro storico di pesaro a fano a fano acquista interesse san pietro in valle questa meravigliosa chiesa di cui parleremo una grande attrazione che purtroppo si può vedere solo raramente a cagli a caglio un incidente un malore di una persona mentre era sul nerone soccorsa e salvata e salvato era un escursionista e poi a pesaro si piange la scomparsa di pandolfi e un amante del calcio riportò in auge questo sport in tutta la città per quanto riguarda invece la regione marche c'è un articolo che viene richiamato per quanto riguarda i prezzi dei voli che partono dall'aeroporto di falconara voli interni finalmente ma i prezzi ora sono alti ebbene è comodo avere un volo per roma napoli altre località italiane ma i prezzi insomma non sembrano che siano alla portata di tutti e allora apriamo il giornale vediamo subito la pagina di fano con l'apertura dedicata a un esame di quello che è il turista che frequenta la nostra riviera è un esame che viene desunto dalle dichiarazioni di un punto importante un punto dove i turisti fanno riferimento a cui fanno riferimento è il centro informazioni di piazza 20 settembre che quando ha ampliato il suo orario prima per esempio il sabato era chiuso la domenica era chiuso invece questo servizio è a maggiore disposizione dei turisti ebbene c'è una maggiore affluenza i servizi i turisti si servono delle informazioni prima cosa che chiedono ovviamente una mappa della città ma è una mappa importante perché non chiedono solo il mare ma chiedono anche il centro storico e quindi questo connubio tra città d'arte e cultura e città balneare costituisce la forza di fano città turistica questo connubio non è molto frequente sia nelle marche sia in tutta italia una città con i suoi monumenti così vicino al mare insomma che dà la possibilità ai turisti di passare qualche ora in spiaggia ma di visitare tante cose di origine storico di origine monumentale costituisce un'attrazione che fa la fortuna di fano vacanze a fano ma ci sono però anche delle lamentele e il titolo le richiama bocciature dei turisti servizi trasporti e molte per la sosta vediamo quali sono queste lamentele le più frequente riguardano l'assenza dei bagni pubblici il che costringe il turista a rivolgersi ai baristi i quali qualche volta si spazientiscono insomma possibile che noi dobbiamo fare le veci di un compito che spetterebbe all'amministrazione comunale e beh insomma fino adesso l'abbiamo fatto ma è ora che il comune si svegli e poi vediamo altre lamentele non sono mancate espressioni di disagio da parte di chi soggiorna nei camping e negli alberghi della zona a sud del fiume metavolo per la carenza di trasporti pubblici che consentono appunto a costoro che vivono un po in periferia che passano le vacanze in periferia a vedere le iniziative del centro storico specialmente quelle serali insomma non ci sono a sufficienza linee pubbliche che possano così effettuare questo collegamento e poi qualcuno si è lamentato per il caro prezzi e per la brutta sorpresa ricevuta al ristorante per cui non aveva chiesto la lista del menù insomma alla fine si è trovato un conto particolarmente esoso brutte sorprese le hanno ricevute anche chi ha parcheggiato irregolarmente perché non ha trovato posto nelle vie del lungomare e ha trovato le multe appunto sul parabrezza insomma anche qui i concessionari di spiaggia hanno rilevato che bisogna fare i parcheggi perché altrimenti è inutile penalizzare il turista che viene a fano dopo averlo attirato non è una buona cosa e poi c'è un'altra un'altra esigenza un'altra esigenza che riguarda il turista che viene dall'estero il turista che viene dall'estero non è abituato a trovare così tante spiagge in concessione dalle sue parti il 90 per cento delle spiagge sono libere il 10 per cento sono in concessione qui invece le parti si sono invertite e ha manifestato la sua sorpresa per la carenza di spiagge libere ma tant'è ognuno che viene in un paese diverso deve adattarsi alle esigenze di quest'ultimo paese questo per quanto riguarda il ritratto del turista ma ora veniamo agli eventi gli eventi attraggono sempre molte persone a fano oggi è in atto la birra di augusto un insieme di iniziative musicali gastronomiche che fanno veramente tanta tanta attrazione nelle parcheggione dell'ex caserma monte vecchio ottima partenza per la birra d'augusto che proseguirà fino a mercoledì sempre a partire dalle ore 18 e quindi veramente un centro di attrazione importante ed ora veniamo a san pietro in valle guardate questa bella fotografia sembra che a un certo punto da un pertugio ovvero dalla porta d'ingresso perché all'interno non si può entrare esploda una immagine meravigliosa di luce di colori di cose meravigliose veramente sono i dipinti gli stucchi gli ori che decorano la chiesa di san pietro in valle san pietro in valle apre la porta subito una folla cerca di sbirciare l'interno comunque l'accesso è vietato per lavori in corso da 40 anni pensate quanto ci vuole per riaprire al pubblico questa chiesa la meraviglia è veramente off limits e questa chiesa è stata riaperta ma soltanto così come porta perché poi la gente è rimasta all'esterno in occasione di un gir per fan e subito si è addensata in via nolfi una grande folla per vedere questo capolavoro e speriamo che i lavori che stanno compiendo i tecnici del Politecnico delle Marche che sono stati incaricati di fare un rilevamento non geologico un rilevamento con il georadar di tutta la struttura e cercare di verificare le cause della umidità si compiano al più presto all'ospedale di Fano la centralità che merita non c'è il dibattito politico durante la stagione di agosto il clou della stagione estiva in questo caso si dibatte sulle dichiarazioni del consigliere regionale Biancani in merito all'operatività dei medici dell'ospedale di Pergola nella cui a cui difesa vi Biancani è intervenuta la segretaria provinciale del partito democratico Rosetta Fulvi ed ora controbattono fratelli d'Italia passiamo a terre roveresche mercato antico tuffo nell'ottocento paglio dell'orcio la grande sfida ebbene terre roveresche si riveste dell'atmosfera fin de siècle ovvero dell'ottocento la rievocazione storica del mercato antico di Orciano l'iniziativa è in programma oggi e no mercoledì e giovedì 17 agosto taglia il traguardo il venticinquesimo anno di questa iniziativa abiti dell'ottocento confezionati su misura e poi il paglio dell'orcio di San Rocco musica buon cibo tradizione e tutto quanto insomma fa attrazione in un'atmosfera tutta particolare insomma si sono rievocazioni che riguardano l'epoca romana l'epoca mediovale ma questa dell'ottocento è veramente originale giriamo ancora la pagina vediamo Senigallia Senigallia ci sono iniziative aperte anche il giorno di ferragosto balli show e bar operativi fino alle due di notte il sindaco ha concesso ancora l'opportunità ai negozi ai bar agli esercizi di restare aperti fino alle due di notte pronti ad ospitare che ha una sana voglia di divertirsi sana metto l'accento Susana oggi comunque ci sarà la benedizione del mare Massimo Olivetti conferma dunque l'ordinanza che prevede l'apertura fino alle due di notte per questa sera di tutti gli stabilimenti i bar i ristoranti i locali della città compresi quindi quelli che sono sulla spiaggia vediamo un'occhiata anche allo sport perché il mercato è in pieno svolgimento la visse piega il fossombrone solo su rigore il che non soddisfa molto i tifosi tante chance sprecate di biancorossi nel test di ieri mattina poi nel finale il penalty della vittoria realizzato da marcandella quindi il risultato vi spesero 1 fossombrone 0 mister banchieri il risultato per me dice va bene così i segnali sono positivi mentre fucili da parte di fossombrone replica una prestazione dei miei giocatori sicuramente all'altezza il mister giudica positiva la prova dei suoi ragazzi nonostante il risultato negativo il fano il fano è incompleto è incompleto da diverso tempo e il mister scorsini da tanto reclama un rafforzamento della squadra perché così come insomma non si può affrontare nel migliore dei modi nemmeno il campionato di serie d per affrontare una serie d tosta come la prossima la squadra va rinforzata servono almeno cinque o sei giocatori e poi vediamo anche altri titoli il montecchio gallo è forte ma occhio all'azzurra colli marinelli dice la sua sul prossimo campionato di eccellenza il livello si è ulteriormente alzato a questo punto chiudiamo il corriere adriatico anzi no abbiamo dimenticato tutte le pagine pesaresi a partire da quelle regionali dedicate appunto alla rinuncia del trainer mancini mancini si dimette da ct azzurro ma il resta il nostro testimonial l'abbiamo richiamato in prima pagina sono le dichiarazioni del presidente della regione marche acquaroli dopo la rinuncia shock alla nazionale il governatore conferma la fiducia all'uomo immagine del turismo marchigiano comunque resta sempre un grande allenatore nonostante le fasi alterne della sua condizione conduzione del nazionale e poi c'è anche una dichiarazione anche della mamma che subito stata intervistata dai giornalisti per quanto riguarda questa decisione inaspettata del figlio la mamma dice lo sospettavo e per gli amici è stata una vera sorpresa invece i commenti agliesi nel suo entourage non era convinto delle novità nello staff ma i giornalisti suppongono anche un'altra decisione quella di un contratto veramente molto molto appetitoso da parte delle squadre arabe e lì allora sono i milioni che veramente tirano si parla addirittura di un contratto di 60 milioni e beh insomma sono poi cifre che vengono che vengono così lanciate senza magari avere un supporto reale veniamo allora al turismo in provincia ferragosto negli hotel scattano le promozioni per essere al completo c'è che è lanciato pacchetti tutto compreso però che si riferiscono non solo ai due tre giorni di ferragosto al ponte di ferragosto ma anche a tutto il mese fino a settembre sono spalmati e questi pacchetti nell'intero mese chi lavora con il roff può contare sempre sui fedelissimi già arrivati revival cocomerate e dj sette in spiaggia la festa è non stop ogni concessione di spiaggia per domani ma anche per oggi ha programmato tutta una serie di iniziative di intrattenimento cocomerate aperitivi giochi per vivacizzare la vacanza dei propri ospiti ed ora passiamo a quei tre progetti che avevo richiamato in prima pagina per quanto riguarda lavori pubblici nel centro storico di pesaro rientra anche palazzo almerici di fronte di fianco alla biblioteca di pesaro alla biblioteca oliveriana le cinque ditte in gara per il restyling della biblioteca si sfideranno il 30 agosto ebbene i tre progetti riguardano san domenico palazzo mazzolare mosca la sede della biblioteca oliveriana gli appartamenti del complesso su via giordani nuovo look e nuove finalità che vengono attribuiti a questi edifici per una operazione di restauro che nel complesso prevede un investimento di 20 milioni di euro quindi veramente un intervento eccezionale e qui si dà l'addio all'imprenditore pandolfi riuscì a riportare la vis al benelli l'ex presidente aveva 62 anni le esequie si terranno al campo sportivo di villa ceccolini e saranno eseguite alle 19 e 30 appunto è l'ultimo saluto mercoledì alle se scusate il rosario è alle 19 e 30 a villa ceccolini mentre l'ultimo saluto il funerale si terrà alle 16 di mercoledì nel campo sportivo di villa ceccolini e per quanto riguarda il roff ci sono tante iniziative collaterali per esempio accanto alla casa di rossini è stata inaugurata una nuova galleria d'arte si tratterà della galleria rossini ovviamente così viene denominata inaugurato un nuovo spazio espositivo che arricchisce gli itinerari culturali questo per quanto riguarda il roff ma ora vediamo la prima pagina del resto del carlino per quanto riguarda pesaro viene richiamato appunto il funerale la morte di claudio pandolfi la vis pesaro piange il suo ex presidente e poi si parla del roff la cantata per malibran interrotti 200 anni di oblio quasi una prima per questo festival rossignano così così importante e apprezzato a livello internazionale e poi l'esito del restyling di piazzale d'annunzio supera il test e vedremo dicono poi gli esercenti se questo nuovo look del piazzale attirerà turisti attirerà cittadini anche dopo l'estate per quanto riguarda una destagionalizzazione delle presenze e ovviamente dei loro clienti ma la foto più significativa è quella di Mancini iesi sostiene Mancini avrà le sue ragioni e sulla pagina di Ancona i suoi compaesani sono portati a così scusare questa decisione di Mancini nonostante che abbia sorpreso molti tifosi del calcio a Sirolo botte da orbitra ragazzini pugno di ferro del questore via dalla riviera mentre ad Ancona un cinghiale centra una scuterista la ribalta per strada lui fa pochi passi il cinghiale e poi va in una forra e qui muore comunque la donna se l'ha cavata abbastanza bene nonostante appunto la gravità dell'incidente ad Ascoli un vasto incendio a Massignano un sottobosco in fiamme ci vogliono ora per domarle da parte dei vigili del fuoco mentre chi va a fermo può visitare il museo popolare è un passo da casa l'artico è un passo da casa e con questi caldi insomma fare un tuffo in un'atmosfera glaciale forse costituisce un po' di ristoro anche per i cittadini e per i turisti a fermo si svolge la contesa del secchio vince la contrada a San Martino e poi c'è anche la cavalcata dell'assunta ricordiamo che domani è la festa dell'assunta conto alla rovescia per il sorteggio dei cavalli mentre per quanto riguarda macerata le imprese tornano a crescere 0,52 per cento una spinta assai significativa a Recanati non cessano i furti ma non cessano nemmeno tutte le altre province sembra che questa estate abbia solleticato l'invasione di bande che si dedicano ai furti in appartamento ladro acrobata a segno in centro mentre a Porto Recanati un super infermiere salva due bagnanti in due giorni in spiaggia e quindi veramente merito a questo salvatore eccola la pagina dedicata a Mancini la sua Iesi è sotto shock ha dato un messaggio forte avrà avuto le buone ragioni così viene scusata questa decisione testimonial delle Marche Mancini resta con noi ha sempre dimostrato il legame della terra le dichiarazioni di Acquaroli vediamo anche la notte di violenza a Sirolo sulla pagina di Ancona botte tra gruppi di ragazzini quest'ore li caccia dalla riviera la polizia è riuscita ad individuare i giovani tramite le videocamere sono tutti di Castelfidardo e non potranno più andare a Numana e nella cittadina riverasca fino a un massimo di due anni quindi c'è veramente un foglio di via per quanto riguarda interno e qui abbiamo un articolo che riguarda l'incidente causato da un cinghiale che è sbucato improvvisamente sulla strada travolgendo una signora si tratta di Monia Cimini responsabile fitness di Cogebi che è stata disarcionata in via del Conero all'alba ero terrorizzata ha detto mi sono trovata improvvisamente una montagna addosso è veramente il cinghiale pesava più di un quintale purtroppo povero lui insomma le spese più 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 gravi le ha sopportate lui non solo Rossini la cantata la cantata per mali brani il roff fa rivivere il mito è un'opera questa scritta da doni zetti e da altri musicisti a suo tempo ma che è stata pochissimo poi rappresentata in onore di una grande cantante la mali brani ebbene il roff fa rivivere innanzitutto il mito di questa grande cantante e poi anche quest'opera secondaria diciamo così tra virgolette perché poi è un'opera bellissima che è stata ripristinata e quindi costituisce un momento centrale del roff siamo in conclusione vediamo ancora qualche notizia di pesaro le imprese no malore questo malore lungo la falesia donna soccorsa con la moto d'acqua è successo a una bagnante che passeggiava col marito tra ballugola e gabici incidenti stradali sono verificati nel weekend a pesaro a fano e colombarone ma i feriti per fortuna non sono gravi e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa massimo foghetti vi dà appuntamento a giovedì prossimo perché poi col ferragosto il giorno successivo i giornali non escono grazie per l'ascolto a risentirci intanto vi auguro una buona giornata